Forza Italia è il collante di questa maggioranza e ci mette tanto buonsenso, tanto cuore e tanta testa. Forza Italia, a volte schiacciata tra Lega e Fratelli d'Italia, rivendica il suo ruolo all'interno della maggioranza regionale e lancia le sue proposte per la ripartenza. E aiuterà il governatore Marsiglio a varare, si spera, nel più breve tempo possibile, ovvero in questa settimana, una norma che parte da 53 milioni di euro, arriva secondo noi a 100 in poco tempo e si occupa di dare respiro alle nostre partite IVA, universalmente esistenti, a chi è più in difficoltà, agli asili privati da 0 a 6 anni, agli operatori dello sport, della cultura e di inserire alcune leve che facciano ripartire le attività interne delle nostre imprese artigiane come il sisma e l'eco bonus sull'edilizia pubblica. Insomma, è un pacchetto di misure che noi sentiamo profondamente vicino al nostro modo di vedere la vita. Le proposte di Forza Italia e della maggioranza complessiva, mente considerate, sono state già depositate in commissione, sono state offerte anche alla valutazione delle opposizioni, così come noi siamo assolutamente favorevoli a ricevere indicazioni che ci possono essere sfuggite perché l'interesse complessivo è fare una buona norma per l'Abruzzo. Andremo in conferenza di capigruppo tra qualche minuto per stabilire la seduta del Consiglio regionale in questa settimana. Quindi, se saremo in grado di porre in essere delle misure convincenti, tra mercoledì e giovedì potremo andare in aula e approvare la norma.